Siamo adesso ad Alcamo, una città praticamente in festa per questo Natale 2023. La magia è anche arrivata nel quartiere Maria Osiliatrice. Noi eravamo lì presenti per raccoglierne tutto l'entusiasmo. Ascoltiamo pertanto le interviste realizzate dall'assessore Donatella Bonanno e al vice sindaco Caterina Camarda. È un piccolo segno, forse però è anche un grande segno perché durante le festività natalizie non dobbiamo dimenticarci delle periferie, delle zone meno in vista della città. Il centro storico è sicuramente bellissimo da vivere in queste giornate, però Alcamo è anche altro. È giusto che l'amministrazione abbia attenzione anche per i quartieri più periferici e per i loro abitanti che non sono abitanti di serie B. Sono felicissima, già quando vedo bambini sono a mio agio come si suol dire, per cui stavo sorridendo appunto a questi bambini in fila e stanno prendendo lo zucchero filato. Come diceva l'assessore Bonanno è un piccolo gesto che per noi però significa tanto e penso anche per questi bambini e per questo quartiere. Abbiamo voluto in qualche modo portare la festa anche fuori dal centro storico perché noi riteniamo fortemente, da un punto di vista politico e sociale, che le periferie vadano aperte. Posso aggiungere, noi non abbiamo dimenticato di essere popolo? Assolutamente, ma perché noi siamo popolo? Non abbiamo mai smesso di esserlo e d'altro canto l'obiettivo politico che ci proponiamo è sempre quello di non lasciare indietro nessuno. Questo insieme ad altre scelte politiche anche diciamo più importanti da un punto di vista dell'impegno economico. Ricordiamo che in questo quartiere è previsto un progetto che è quasi al via insomma, un progetto di 5 milioni di euro per la riqualificazione di tutta la zona. Per cui noi crediamo molto nel fatto che in questa periferia possa nascere vita per tutta la comunità alcamese. Questo quartiere va incontro a una vera e propria rigenerazione urbana, molto profonda. Qua sorgeranno piste da skate, orti urbani, luoghi di aggregazione. Iniziato con lo zucchero filato? Lo zucchero filato non guasta perché è comunque un momento in cui i bambini possono aggregarsi, possono stare insieme in maniera serena, in maniera tranquilla e quindi sicuramente è un momento che ricorderanno del Natale. Grazie a tutti.